Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video sull'aggiornamento della settimana 14. Niente quest'oggi ci sono un po' di novità sembrerebbe che finalmente Konami abbia sistemato il problema del Konami ID poi nel pomeriggio farò uscire un tutorial su tutto quello che c'è da sapere su questo benedettissimo Konami ID perché è veramente un disastro. Konami purtroppo informazioni non ne dà e molti utenti sono andati in difficoltà. Allora quest'oggi ragazzi è stato reintrodotto l'agente Iconic Moment del Barcellona però a sto giro non sono stati inseriti Ronaldinho e Puyol al loro posto sono stati inseriti Klaivert e Cruyff. Deco c'era già l'altra volta come ben sapete questo agente potrà essere girato soltanto con le monete MyClub e potrà essere girato dal 17.12 al 23.12. Poi insieme andremo a vedere nel dettaglio questi tre giocatori iconici anche se Deco già lo conosciamo abbastanza bene. Anche questa settimana sono stati inseriti i Player of the Week giocatori della settimana anche questa gente potrà essere girato soltanto con 100 monete MyClub e potrete girarlo soltanto per tre volte. Il periodo va dal 17.12.2020 al 23.12.2020 poi insieme andremo a a vedere tutti i giocatori che sono stati selezionati per noi questa settimana. Diamo un'occhiata anche alla panoramica del match day della prossima settimana dove vedremo affrontarsi le squadre della nostra Serie A. Inoltre verrà rilasciato un agente che vi permetterà di ingaggiare giocatori risalto del Milan e dell'Inter. Tanta roba ragazzi tanta roba. Allora ragazzi come ben sapete quest'oggi con la campagna delle festività è stato dato il regalo al giocatore risalto Bellerine. Tanta roba ragazzi perché io lo reputo uno dei terzini destri più forti del gioco. Quindi veramente tanta tanta roba questo regalo da parte di Konami. Adesso andiamo a guardare insieme i tre giocatori iconici che si potranno pescare con l'agente Icon del Barcellona. Si tratta di Cruyff, tanta roba, Deko e Kluivert. Andiamo a vedere nel dettaglio questi tre giocatori leggendari. Partiamo subito con Cruyff, ha un overall di 95, stile di gioco giocatore chiave, quindi ha una carta abbastanza importante da utilizzare forse di più come trequartista. Controllo del corpo 94, contatto fisico 79, poca roba. Potevano dargli qualche punticino in più. Resistenza 84 abbastanza buono, velocità 88, accelerazione 91, poi finalizzazione 91, tanta roba, passaggio alto 87, passaggio raso terra 86, dribbling 95, possesso nello stretto 96, poi comportamento offensivo 88, controllo palla 94. Altezza 1,80 m, che dire ragazzi, veramente una super leggenda questo Cruyff 95. Io sto provando nella squadra livello 4 Cruyff quello normale e posso dire che tanta tanta roba, non oso immaginare questo qui dell'agente iconico. Andiamo a vedere Deku che già conoscevamo, ovviamente ha lo stile di gioco regista creativo, ottima resistenza, contatto fisico un po' scarsino, velocità un po' scarsino, potenza tiro 92, controllo del corpo 85, poi dribbling 89, possesso nello stretto 88, passaggio a scala 90, tanta roba, passaggio alto 87, calci piazza 86, poi comportamento offensivo 85 e controllo palla 92. Non è malvagio questo Deku, ragazzi. Io sono riuscito con il primo agente icon del Barcellona a maxarlo perché me ne erano usciti due e ce l'ho a livello massimo. L'ho utilizzato un pochettino e posso dire che è veramente forte questo Deku, però avendo altri giocatori preferisco altri, però veramente tanta roba questo Deku. Adesso invece passiamo a Kluivert. Kluivert full core di gioco come stile di gioco, contatto fisico 91, tanta roba, elevazione 88, velocità 82, accelerazione 75, Nii, resistenza 77, forse un po' pochina per una punta, bisognerebbe utilizzarlo con il contropiede altrimenti si stenga con molta facilità, finalizzazione 93 ragazzi, tanta roba, colpo di testa 87, comportamento offensivo 87, controllo palla 89, altezza di 1,88. Ragazzi non è malvagio questo Kluivert, devo essere sincero, peccato per il colpo di testa e l'elevazione. Secondo me qualche punticino in più sarebbe stato super top perché essendo un po' lento almeno potevano dargli qualche volta in più sui colpi di testa. Però va bene così, anche questo qua è un bel giocatore iconico ragazzi, da prendere. Vi ricordo anche che è vero che per girarlo ci vogliono 100 monete, ma se siete sfortunati vi potrebbe capitare anche tantissime volte lo stesso giocatore iconico, quindi questa è una piccola pecca secondo me da parte di Konami. Adesso invece andiamo a vedere tutti i player of the week che sono stati selezionati questa settimana. Questa settimana è stato selezionato CR7, 95, poi Toni Kroos, Pellegrini, Madison, Benedetto, Denayer, Hernandez, Toloi, Martinez, Baili e Lozano. Ci sono un bel po' di giocatori interessanti ragazzi. Ovviamente io tra tutti questi qua vorrei prendere, vediamo un attimo Pellegrini, giocatore chiave non va bene, quindi uno di questi, Denayer ragazzi vorrei prendere, Madison, regista creativo, no non mi piace, Raffael Toloi, DC, Rontale Exxon, 85, 87, 87, Ni, boh ragazzi forse tra tutti questi perché poi Hernandez già ce l'ho, gli unici giocatori interessanti sono Sto Denayer che è tanta roba, veramente un difensore molto molto forte, poi Toloi perché a me mancano i difensori e Lozano perché sono tifoso del Napoli. Boh vediamo, andremo a spacchettarli, vediamo un po' cosa, cosa, cosa succede ragazzi, non devono essere sfortunati però. Vabbè pure Cross non mi ricordo se già ce l'ho, sembra che già ce l'ho If Cross, però se non ce l'ho pure Cross non è male ragazzi, è un po' lento però non è male, ha dei bei valori. Ecco il nostro primo giro ragazzi, vediamo un po' dove va, Inghilterra, Inghilterra chi c'era non mi ricordo? Allora Pallanera chi è un portiere? Vabbè, quello che non mi serviva va bene così, quello che non voleva mi ha dato. Cazzo, Martinez, cazzo, guarda che ciuffo che c'è Martinez, però vabbè, potrebbe sempre tornare utile, specialmente nella squadra livello 4, portiere offensivo, vabbè, portiere offensivo mi mancavano ragazzi, vediamo un po', portiere offensivo poi, traiettoria bassa, non è malvagio però devo essere sincero, non è malvagio, vabbè, lo teniamo. Secondo giro ragazzi, vediamo un po' se siamo un po' più fortunati, va in Italia, in Italia c'è un bel po' di giocatori, vediamo se è il Napoli e la Juventus CR7, vabbè. Poi vedrò quale è il migliore perché ne ho già un altro di CR7 If, vedrò un po' qual è il migliore da livellare, e niente, io lo darò in pasto. Terzo ed ultimo giro, sempre Italia, Atalanta, e mi ha dato Toloi. Toloi, DC che avevo detto che non era malvagio, va bene ragazzi, perché potrei utilizzarlo anche nella squadra livello 4, quindi va bene così, a me non mi ha dato uno di quelli interessanti che a me piacevano, va bene così, non siamo andati proprio male, 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 male. Adesso ragazzi andremo a fare tre giri di Agente Icon Barcellona. Ecco il primo giro, vediamo un po' se diventa viola, bianco. Allora va in Spagna, vediamo un po' chi ci darà qualche palla argento, vediamo, esatto, una schifosissima palla argento, Cubo, Tony Cubo, questa è la sottomarca di Tony Tubo. Vabbè. Secondo giro ragazzi, vediamo se diventa la viola la schermata, sempre bianca, Facchio, ma sempre in Spagna. e un altro Argentone. Argentone, Hugo, Mallo, vabbè. Ultimo giro ragazzi, speriamo bene in un Icon, è bianco, vaffanculo, lo dico in italiano. Vediamo un po' se a me è una palla nera, una palla argento, Facchio tre volte. Vabbè. Bryant White, che pazienza bisogna avere, vabbè. Saremo fortunati sicuramente sul prossimo agente Icon, come ben sapete io sono alla ricerca di un difensore, l'ho voluto comunque girare, questo qua ho voluto fare qualche giro, tentando la fortuna, con la speranza di prendere Cruif, però vabbè, non ci vado a buttare tantissimi GP, visto che in attacco sto già messo bene. spenderò questi GP per un agente Icon dove sarà possibile ingaggiare dei DC forti, o Campbell o Puyol. Ragazzi siamo giunti al termine di questo video, io spero che anche questo video vi sia piaciuto, mi raccomando tempestatelo di like e condividetelo con i vostri amici. Io ovviamente oltre a parlarvi dell'aggiornamento della settimana, cerco anche di dare dei consigli, visto che comunque chi ha iniziato già il MyClub dall'inizio, avrà già una squadra fortissima, quindi vanno fatte delle girate mirate a mio avviso. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi sul mio canale Twitch, iscrivetevi sul mio canale YouTube, ed attivate la campanellina. Io vi aspetto sul mio canale Twitch per tantissime live sul MyClub. Ciao, alla prossima!